L'operazione dell'incidenza viene eseguita posizionando i sensori ancora verticalmente con il peso attaccato. L'indice magnetico viene posizionato per indicare il punto d'inizio della sterzata come si vede indicato dallo zero sulla scala graduata del piatto. Viene effettuata una prima sterzata a 20 gradi seguendo l'indicazione del display. Terminata la sterzata questa viene confermata dall'operatore sul pannello di controllo. Si prosegue con un'altra sterzata sempre a 20 gradi ma nella direzione opposta. Una volta raggiunti i 20 gradi questi vengono confermati sul pannello. Si ottiene così la misura iniziale di incidenza. Al termine di questa operazione il computer richiede di riportare le ruote in direzione di marcia. Al termine di ciò sarà possibile effettuare la regolazione diretta dell'incidenza.